Quando uno dice futuro, pensa di esprimere una figura del tempo. Questa figura del tempo non è una figura universale per tutta l'umanità, è una figura generata dalla cultura giudaico-cristiana. Fuori da questa cultura il futuro non c'è. L'essenza dell'umanesimo è la scienza. Perché con la scienza l'uomo diventa signore e padrone del mondo. L'antropocene che avete scritto lì nella vostra è questo. Siamo nell'epoca dell'uomo signore e padrone del mondo. Punto. Effetto cristiano, l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, al vertice del creato. Questa è la nostra storia. Dunque, nel Seicento nasce il metodo scientifico, però la tecnica resta ancora a livello elementare. A proposito del rapporto scienza-tecnica, attenzione bene, perché c'è un'altra idea che dobbiamo smontare nella nostra testa. Che la scienza sia pura. E la tecnica è buona o cattiva secondo dell'uso che se ne fa. Non è così. Al contrario, è la tecnica, l'anima e l'essenza della scienza. Perché la scienza non guarda il mondo per contemplarlo. La scienza guarda il mondo per manipolarlo. La scienza guarda il mondo per contemplarlo.